Dialogo e ascolto. Conclusa la missione sul titano del sottosegretario agli esteri Merlo. Apertura verso le istanze della collettività italiana residente in territorio. Giornata di visita all'Università, Museo dell'Emigrante ed alcune realtà economiche locali. Conclusa la missione in Repubblica del sottosegretario agli esteri Merlo. Dialogo aperto in mattinata con le varie espressioni della collettività italiana residente in territorio. Quindi la visita all'Università per poi chiudere con una maggiore conoscenza delle realtà economiche locali. Qui ho sentito un'energia diversa. Così il sottosegretario agli esteri Ricordo Merlo nel secondo ed ultimo giorno di missione in Repubblica. Colpito da una realtà che per tante ragioni non ha eguali. In ambasciata l'incontro con una rappresentanza articolata della collettività italiana sul titano. Comites Associazione San Marino Italia, esponenti di rilievo nel panorama culturale, economico e sociale. A cui va il merito con le loro attività di consolidare a più livelli le relazioni tra i due paesi. L'incontro diretto con la collettività credo abbia consentito al sottosegretario di avere un panorama più completo. Attenzione focalizzata su diverse problematiche, tra cui spicca un ancora al caso Targhe. La questione del mantenimento della doppia cittadinanza, facoltà ad oggi preclusa ai naturalizzati, compresi molti dei presenti. L'impossibilità per gli infermieri italiani residenti sul titano di lavorare in Italia o partecipare a corsi di aggiornamento. C'è necessità, è stato detto, di tornare a quel livello di collaborazione bilaterale che aiutava a sciogliere i nodi in tempi brevi. Merlo ha confermato che a Roma si farà portavoce di queste istanze. Valuteremo, ha detto in particolare sulla cittadinanza, se si possa migliorare la situazione attraverso un negoziato. Dipende soprattutto dalle autorità sanmarinesi. Io da un lato capisco la situazione di voler mantenere l'identità, uno stato così piccolo, con pochissime persone, e anche capisco che la comunità italiana vuole avere il diritto che ha in tutto il mondo. Io ho la doppia cittadinanza italiana-argentina. Uno può avere le doppie cittadinanza con tutti i paesi. Quindi anche qui bisogna cercare il dialogo per trovare una soluzione. La visita ha quindi toccato la sede dell'università, dove Merlo è stato accolto dal segretario alla cultura Belluzzi, il direttore di dipartimento Laura Gobbi e Isabella Bizzocchi, direttore generale dell'Ateneo. Mattinata che si è conclusa al centro di ricerca sull'emigrazione Museo dell'Emigrante, un tuffo in uno dei capitoli più significativi della storia sanmarinese con la responsabile Patrizia Di Luca. Centro che annovera tra l'altro importanti collaborazioni anche con la Farnesina.